Dopo l'esperienza televisiva striscia la notizia, l'amicizia tra Belen Rodriguez e Michelle Hunziker è sempre più semina Adesso, a suggellare il solido rapporto tra le due è arrivato il dolcissimo regalo della show Gary Svizzera che alla collega ha donato un barboncino uguale alla sua linea Ancora dobbiamo pensare al nome, ci piace, grazie Michelle ha scritto l'Argentina nel post che ha scatenato immediatamente il totonome tra i suoi follower, numerosissimi a contribuire nella scelta che si preannuncia impegnativa, data la mole delle proposte Grazie a tutti